Il ministro del lavoro Poletti ha dichiarato recentemente che molti degli italiani che fuggono all'estero per lavorare, tra questi molti non sono meritevoli. Nonostante le scuse ricevute dal ministro, la questione ha creato molte polemiche ed è per questo che abbiamo chiesto ai romani cosa ne pensano al riguardo. Penso che siano le solite dichiarazioni fuori luogo di chi non pensa molto prima di parlare. Mi sembra un po' riduttivo e stupido come discorso anche perché c'è gente che comunque si studia e fa comunque qualcosa. È vero che i giovani in questo momento come noi hanno dei problemi e non sono più attivi come nel tempo addietro però magari anche la colpa non è soltanto nostra ma anche di chi ci ha insegnato determinate cose e chi ci ha fatto smettere di credere in determinate cose come la politica, come il lavoro. In Italia fondamentalmente non ti offre tanto, io prima che sono rimasta Italia su Italia non sono di Roma sono di giù mettiamola così e in Italia c'è ben poco quindi uno o si mette d'impegno e cerca qualcosa o altrimenti va fuori. Secondo me non mi piace proprio l'espressione fuga di cervelli che alla fine comunque chi rimane qua e ha delle possibilità qui non è detto che sia stupido in fondo. Secondo me sono molto coraggiosi perché non è facile allontanarsi così da casa. Dall'altra parte però se tutti quanti vanno via l'Italia chi la cambia? Sono madre di uno di questi giovani, cosa ne penso che se se ne è andato avrà avuto le sue buone ragioni?